Bergamaschi, Giacinti di prima intenzione bene per Daui, Daui va giù, la palla resta lì, ancora Daui se ne va via, Daui vince un altro rimpallo, fino in fondo Daui mette in mezzo, Giacinti, il 3-1 del Milan con Giacinti che si leva anche la maglia, che gol, tripletta e Milan che adesso ha messo decisamente il muso avanti con Valentina Giacinti, tutta la gioia del capitano delle rossonere, che azione travolgente di Natascha Daui e che taglio a prendersi palla di Valentina Giacinti, pallone scaraventato all'ing.